E' in casa e bravo, l'azzo della panchina, Biazro, Kakashi, primo tiro, l'avrimento tra tighe, Kendi Kakashi, diventa il presente Kendi. Si può stare leggeramente a Kendi, Kendi Kakashi, per terra le volte, la rippa di Kendi, Patta la scuola del poteco, 7 secondi su 24, Zerrick inota, alcun miso da 40 minuti, grande Kendi, un po' così e di Kendi, Kendi Kakashi, Oh bella, 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 Grazie a tutti.